della polizia locale per impedire sul territorio comunale fuochi di artificio e botti in comitanza dell'ultimo dell'anno. È una scelta consapevole per l'amministrazione per proteggere il benessere dei nostri cittadini per la pericolosità comprovata dei botti e per preservare lo stato di salute degli animali a quattro zappe che sono terrorizzati dai botti. Diversi comuni si sono già attivati in questo senso, è una scelta di civiltà che il nostro capoluogo deve portare come esempio per tutta la provincia. Le città sono Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Ognia, Modena, Brindisi, Lucca, Trani, da notare alcuni comuni del sud che sono abituati a mettere attenzione per i botti. E vogliamo una scelta di comunità e civile. Poi il clima di terrore e di violenza ci chiede di avere anni e rispetto di chi subisce botti ben più importanti che vogliono dire a guerra. Grazie. Grazie consigliere Greco, quindi con un'unica comunicazione pre-riscrita, abbiamo ottimato questa frase, aspettiamo le 20.45.